mamma sto arrivando preparando stigliola stai arrivando ti porto oh mamma si sosegno? compara Mario mi ha detto io vorrei dare il normale e io io feci uno steve e ci buttavo non è buona ma non ci piace no ne faceva a magnano no a me Nh harry ne facevaiert e lei faceva Babe io le facevo la mamma buoni facevano buoni io li manciavano Il sangue e la terra come sono, se ci piacciono, cos'è cos'è, 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 io scommetto per cercare cos'è, 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 buono, sono buono. Esce il liquido perché queste qua sono state lavate, quindi erano umidi all'interno e un pochino di grasso poi ce l'hanno pure, quindi il grasso che, infatti vedete che c'è, che il fuoco non è che si spegne il fuoco, se c'è fumo perché praticamente le budelle sono un pochino, hanno un pochino di grasso, ecco perché sono buone pure, perché il grasso porta dolcezza e quindi cola nella brace e fa fare il fumo. Tutto il vicinato sente questo buon odore e quindi poi mi chiedono, ma che cosa stanno facendo, stanno rostendo carne, che cos'era? Non possono sapere che sono queste giole, né ora né mai possono indovinare. Sono tanti i commenti che stanno arrivando.